L'appuntamento è per domani pomeriggio a partire dalle 16.30 davanti al piazzale delle scuole medie di Ischia Giovanni Scotti da dove partirà un corteo che giungerà sino al municipio dove come organizzatori abbiamo chiesto che ci sia un incontro con l'intero consiglio comunale affinché anche il consiglio comunale di Ischia così come è avvenuto a Forio su proposta del PCML del nostro consigliere comunale Domenico Savio si approvi una delibera da indirizzare al governo e al Parlamento affinché la vergogna del dimezzamento dell'indenità di disoccupazione venga cancellata ci troviamo dinanzi ad un provvedimento a dir poco vergognoso con il quale 10.000 famiglie dell'isola d'Ischia saranno ridotte alla povertà perché ci saranno per ogni famiglia un'entrata annuale minore di circa 3.000 euro ogni anno una situazione veramente drammatica chi già ce la faceva giusto giusto oggi è destinato a diventare povero con questo provvedimento e anche chi stava benino naturalmente avrà le sue enormi difficoltà ci dessero almeno il lavoro non è possibile che i lavoratori dell'isola d'Ischia debbano essere sfruttati nelle aziende debbano essere umiliati da un potere politico quale quello nazionale e a tutti i livelli istituzionali aggiungo io che continua a penalizzare le fasce deboli della società a partire dai pensionati ai quali ormai la pensione viene data quasi all'età della morte così come ai giovani lavoratori del settore turistico alberghiero dunque stagionale